ci sono io però siamo in diretta salire allora scusate scusate siamo già collegati Antonio ok? si sente? si si ok Antonio chi vuole? ci c'è un punto guadagnato o due persi? no, un punto guadagnato senza ombre di dubbio perché insomma sicuramente non siamo stati i più berbari della stagione quindi è sicuramente un punto guadagnato mister Campone al termine della gara ha parlato di una questione di testa della squadra era visibilmente insoddisfatto della vostra prestazione alla voce di un finale che evidentemente merita la massima attenzione da parte della squadra al massimo impegno si no io non ho non ho avuto modo di vedere nessun tipo di dichiarazione nessun tipo di intervista credo insomma che oggi alla ripresa il mister ne parlerà ne parlerà anche con noi ecco di questo quindi mi prendi preparato non ho letto niente non ho sentito niente come sono al solito fare quindi oggi il mister si insomma alla fine dice qualcosa ce lo dirà nello spogliatoio vedremo insomma da analizzare il tutto il punto va bene ma forse bisognerà ci si aspettava di più eh ma non solo voi il punto non può bastare ma non solo voi anche noi ci aspettavamo di più come? non solo voi anche noi ci aspettavamo di più non noi o voi in generale no no infatti ma da questo punto di vista non è che dice prendiamo il punto e siamo felici del punto e siamo siamo consapevoli del fatto che che eravamo in grado di poter fare una partita migliore di essere più di creare più occasioni di essere più pericolosi questo si riporta quasi zero no? questo è insomma si è visto non avrei nessun tipo di parola per smentire questo insomma si è visto durante la partita quindi è è sotto gli occhi di tutti è stato sotto gli occhi di tutti non siamo non siamo contenti che noi eravamo partiti con l'idea di fare una partita per vincere però poi le partite si sa al secondo tempo pensavamo di poter fare qualcosa in più invece ci hanno diciamo quelle loro forze fresche ci hanno un po' sorpreso e ci hanno messo un po' di difficoltà e per questo ti dico che è un punto guadagnato che comunque sia siamo riusciti a tenere botta a non subire eccessivamente ci è mancata la forza un po' di ripartire ma questo è credo faccia parte un po' faccia parte un po' delle partite che che non sempre si possono orientare come si vogliono si vorrebbero orientare in un certo modo ma non sempre vanno a quel modo Ciccio andando un po' a fare da tramite non da ambasciatore che chiaramente non porta pena in questo caso mister Capronè ha detto la squadra non deve fare calcoli non deve pensare a quello che può accadere magari nelle prossime partite probabilmente provo a interpretare anche sugli altri campi perché in realtà il Vario è andata diciamo tutto sommato bene perché hanno pareggiato tutte le dirette concorrenti nella lotta playoff voi state facendo calcoli in questo momento è una chiave di lettura? Allora sì è chiaro nessuno di noi fa calcoli questo a me è chiaro una volta per tutti per tutte noi non facciamo calcoli noi ci siamo detti qualche partita fa quando pensavamo di poter magari cullare questo sogno di acciuffare il Cagliari ci siamo detti di giocare ogni partita per vincere senza fare calcoli questo deve essere perché non siamo una squadra che riesce a fare a fare calcoli e cose poi tanto si sa che quando poi si fanno i calcoli non vanno mai come si deve noi ci siamo messi in testa le rivarie a playoff sul campo di vincere tutte le partite che andremo ad affrontare poi le partite vanno in un certo modo l'insoddisfazione l'eneratore questo ci sta tutto io la cosa sulla quale punto maggiormente è sul fatto che noi sappiamo dove vogliamo arrivare quindi non voglio che una partita possa destabilizzare la squadra il gruppo questo non deve succedere e non succederà perché comunque siamo una squadra che deve mettere davanti a tutto l'obiettivo finale e questo deve essere poi come arriverà se arriverà noi abbiamo in testa questo questo dobbiamo coltivare e la nostra concentrazione deve essere dedicata al 100% per arrivare a questo obiettivo in questo momento dobbiamo cercare di vincere tutte le partite che rimangono per arrivare meglio piazzati possibile nei playoff questo deve essere il nostro il nostro unico intento dopodiché sappiamo dove vogliamo arrivare lo sappiamo tutti lo sapete voi lo sappiamo noi quindi vedremo come sarà questa strada un solo gol un gol è una autorete nelle ultime tre partite è solo una coincidenza o una o una inflessione ma è un discorso un pochino un po' limitativa come cosa la partita diciamo le partite dell'ultima tre sono state Ascoli Modena e Perugia giusto? ad Ascoli io credo che la prestazione si è stata fatta molto bene da squadra matura e un gol due gol tre gol quello cambia poco il discorso su Modena e su Perugia sicuramente sappiamo che potevamo fare prestazioni diverse potevamo mettere in condizioni in condizione chi deve segnare di segnare in maniera migliore rispetto a quello che abbiamo fatto questo è numericamente me lo stai dicendo te quindi si è visto questo è è una cosa è una cosa appurata che queste due partite sono state un po' così è un caso oppure tu come l'avete una domanda è un caso perché comunque non siamo non saremo la squadra da sei gol come quella professione ma non siamo neanche la squadra da un gol e due partite quindi questo è un altro aspetto sul quale lavorare sappiamo che i momenti non sono tutti uguali è proprio per questo che io ritengo sia un punto guadagnato perché in un momento un po' così così venivamo da una partita un po' scolgutita come quella con il Modena essere andata a Perugia e averli trovati specialmente nel secondo tempo molto arrabbanti loro non aver subito gol e aver preso un punto mi risulta essere qualcosa di buono è un Bari che sta aspettando il gol di Maniera c'è anche questa 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 il Bari deve aspettare il gol di tutti gol di Maniera o gol di Baliani o di chiunque sia quindi l'importante è che si riesca ad avere sicurezza di avere di avere molte occasioni per segnare questo deve essere di Baliani e di Torno lo so lo so ma non ti ripeto il problema è cercare di avere più occasioni possibile perché con poche occasioni difficilmente si riesce a vincere le partite bisogna crearne bisogna crearne poi chi chi gli segnerà questo non è dato a sapere e non interessa a nessuno l'importante è che vengano fatti voi Ciccio parlando del tuo reparto e di quello che è accaduto a Perugia l'impressione è stata di una certa difficoltà anche da parte delle mezzeali nel trovare spazio i soliti inserimenti che poi sono una delle armi principali di questa squadra sia nel tuo caso o nel caso anche di Jacopo Dezzi c'è in qualche modo una sorta di criticità da questo punto di vista come la vedi perché ci sono da una parte i gol di Maniero che non arrivano dall'altra magari anche voi che state forse agendo come efficacia rispetto a qualche settimana fa questo è vero questo è vero e sicuramente siamo arrivati con meno continuità in zona gol magari ritiamo ad essere un po' più arretrate rispetto a qualche altra partita ti ripeto è sicuramente un po' colpa nostra e poi tante volte insomma specialmente in trasferta cerchi prima di capire con chi ha a che fare come avversario di vedere un po' la giornata che ha e poi di sfruttare gli eventuali punti deboli che riesce a individuare siamo stati forse sì un po' meno è detto bene noi dobbiamo cercare di arrivare con più frequenza in area di riguardo avversario e anche e anche insomma di potersi presentare a sfruttare le occasioni che ci possono capitare da davanti come sta Ciccio Valiani? sta bene sta bene grazie sta bene sta bene ed è pronto il carico proprio per questo che non mi piace che si possa insomma parlare di momenti no? crisi perché non è così non è così insomma è un momento importante per la nostra stagione che si sta che si sta delineando i risultati di sabato lo hanno confermato che non ci sono tante squadre che poi alla fine vanno allo sbaraglio che vogliono rischiare per i risultati siano un po' dovuti anche dalla dalla tensione di arrivare a fine stagione questo è è normale ma non riguarda solo noi insomma ho visto vedendo i risultati si vede chiaramente quindi non voglio che la squadra e che i miei compagni e che noi come gruppo di lavoro si debba avere addosso un discorso non si segna non si si delude questa non è una cosa che mi piace e non credo neanche sia costruttiva per noi ecco voi non dovete fare calcoli provo a farli io per voi nel senso qualche riflessione nella prossima giornata di campionato il Trapani va a Bercelli un campo insidioso ma non certamente impossibile il Pescara ospita il Lanciano voi avete una gara difficilissima con il Cagliari un passo falso con il Cagliari potrebbe forse compromettere diciamo il terzo quarto posto in classifica voi di questo siete consapevoli ma si torna al discorso di prima non facciamo tabelle non facciamo calcoli non ci interessa dove gioca il Pescara dove gioca il Trapani dobbiamo pensare al nostro poi alla fine quando orientiamo il Spoiatoio prendiamo il foglio risultati e guardiamo cosa hanno fatto questo deve essere il nostro modo di ragionare se crediamo nelle nostre possibilità nelle nostre doti tecniche morali sotto tutti i punti di vista dobbiamo ragionare così se poi invece vogliamo fare insomma della statistica noi parlo per noi se noi dobbiamo fare della statistica allora ci mettiamo a fare calcoli a noi questo non ci deve toccare lasciamo la bacchetta di Bruno Vespa magari sul Rai 1 a porta a porta e invece parlando della gara di venerdì sera perché l'obiettivo è rovinare la festa del Cagliari a cui basta un solo punto per centrare la Serie A sì sì sicuramente tutti avrebbero voluto arrivare alla partita del Cagliari e trovare magari un Cagliari il Rai e uscire da una settimana di festeggiamenti però non è andata causissima che non doveva andare così ma non è niente di non è niente di come ti posso dire non c'è niente di diverso perché comunque se avessimo metti caso a questo punto fossimo stati noi lì a lottare con loro sarebbe stata ancora più decisiva e ancora più importante come partita e questo è questa parte del gioco io non avrei mai pensato di arrivare con un Cagliari un po' remissivo alla terza ultima partita quindi lo sapevamo se è stata una partita vera lo sarà e questo è ancora più bello e più stimolante un'ultima domanda Ciccio su qualcosa che non riguarda il Bari perché in Calabria hanno festeggiato però poi nel dopo partita in zona mista Juric ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto un po' il giro della rete e è succeduto molte polemiche lui ha detto decideranno i miei ragazzi se impegnassero nelle ultime partite Abodi ha annunciato che ci potrebbero essere anche delle valutazioni da parte della giustizia sportiva come ritieni queste parole è una eventuale condotta simile cioè è giusto che una squadra già promossa decida o meno se impegnarsi guarda intanto ho visto proprio nello specifico ho visto e sentito le parole di Juric e ti dico che il punto di partenza è che è stata fuori luogo la domanda del giornalista perché comunque un allenatore nella prima stagione è importante in Serie B con una squadra poco accreditata che vince il campionato credo che forse la promossa di gliela complimenti bravo invece il giornalista che si è dimostrato un po' tendenzioso dalla parte del Modena è andato subito a guardare quel lato della vittoria io credo che lui abbia risposto forse un po' ha carabbiato un po' stizzito non credo che abbia dubbi sui valori morali dei suoi giocatori che l'hanno portato dove l'hanno portato quindi penso che se l'ha detto l'hanno detto alcun buono per dire ah sì ti presenti una domanda così e io ti rispondo per le rime poi se ci sarà qualcosa credo che sia fortemente ingiusto anche perché ha concluso in maniera colorita se non mi ricordo male dicendo sono ci vostri e quindi è anche vero lui il suo dovere l'ha fatto ha costato il suo campionato poi se i ragazzi in settimana vogliono festeggiare la tua settimana e arrivano alla partita che sono disfatti quello fa parte del loro protezionismo faranno come vogliono e di conseguenza la partita poi la deciderà il campo non credo che sia il caso di aprire una polemica su una frase detta da un allenatore che poi ha sfogato tutte le sue tensioni alla fine partita c'era forse da allogiarlo di più e da fargli meno domande strane ok puoi la chiave di lettura è giusta perché veniva da una piazza come Modena che sta lottando esatto e quindi loro erano preoccupati perché si sa che nell'ultima giornata no proprio perché c'è Crotone Latina se non sbaglio quindi e la domanda era proprio per quella puoi salutare i nostri tifosi sul nostro social allora ciao a tutti spero insomma che la mia intervista vi sia piaciuta e ci vediamo allo stadio venerdì sera ciao sia chiaro che noi quelle domande un po' cattive diciamo no lo so però la domanda si vedeva che veniva